Certi atteggiamenti forse è giunto davvero il momento di stroncarli in modo deciso, quindi ho dato il mio contributo in questo e ho fatto quindi solo il mio dovere che avrebbe fatto tutti gli altri 21 arbitri di Serie A, quindi ho applicato semplicemente il regolamento, quello che il regolamento ci impone di fare in questi casi e è l'unica possibilità che abbiamo noi per stroncare questi fenomeni. Ci può descrivere lo stato d'animo in quel momento, lì in campo, sentire tutti questi coi razzisti? Era davvero imbarazzante, per questo la decisione erano già alcuni minuti che stavo pensando tramite anche i miei collaboratori in contatto con la forza pubblica di interrompere la partita perché stava diventando davvero una situazione imbarazzante per tutti, per tutte le persone che hanno una coscienza e un animo buono, diciamo, era davvero imbarazzante andare avanti e quindi mi è sembrato l'unica cosa possibile che posso fare per regolamento, sospendere momentaneamente la partita sperando in un ravvedimento di chi si stava comportando in quel modo. Peccato, peccato, ecco, lei avrebbe sospeso definitivamente la partita, sarebbe stato un segnale molto forte? Indubbiamente sarebbe stato un segnale molto forte, in questi casi ovviamente il regolamento a me consente di arrivare fino a quel punto, poi è evidente che subentrano fattori dei quali io non ho nemmeno conoscenza, cioè l'ordine pubblico, evidentemente il modo magari anche di evacuare uno stadio, cose che io sinceramente non conosco e non è certamente facoltà mia andare ad interagire in queste cose. Ma ci è rimasto male, un po' di frustrazione, proprio perché sarebbe stato quello un gesto forte? Mi è dispiaciuto aver interrotto la gara per 3 minuti e 40 secondi e poi appena abbiamo ripreso il gioco e alla prima palla che Colibali ha toccato sentire di nuovo lo stesso che avevo sentito 3 minuti prima, questo mi è dispiaciuto tanto, però abbiamo fatto il possibile, speriamo che anche se il segnale non è stato fortissimo, ma è stato forte e speriamo, mi auguro che sia l'ultima volta che parliamo di questa cosa. Il re si tratta di razzismo, nella Lazio giocano altri giocatori di colore, non era qualcosa per disturbare semplicemente l'avversario? Ma questo non entra nelle mie competenze, poi non sono uno psicologo che entra così al fondo nella testa della gente, quello che si sentiva nello stadio erano dei cori contro un ragazzo di colore, quindi l'unica cosa da fare era interrompere per quel motivo, poi se ci sono altre ragioni io non le conosco, ma soprattutto non mi interessa saperle. Cullibali che le ha detto? Come ha visto Cullibali? Cullibali in campo evidentemente anche lui si era accorto di questa cosa, lì per lì non ha detto niente, forse era un po' una situazione di imbarazzo anche per lui, a fine partita mi ha salutato in modo normale, questo mi ha fatto piacere, e poi sapere che dopo comunque mi ha ringraziato per il coraggio che avevo avuto, ma io non ho avuto nessun coraggio, ho solo fatto quello che il regolamento mi impone e mi consente di fare. Pioli ha detto che non l'avrebbe interrotto? Evidentemente, secondo lui è stato, ho sbagliato a fare questo, ma ognuno ha la propria opinione, l'arbitro lo faccio io e non Pioli, quindi so io quello che mi consente di fare il regolamento e soprattutto quello che il regolamento mi impone di fare. Si sente un privilegiato rispetto ai suoi colleghi per aver ricevuto tutti questi complimenti? Guardi, assicuro che noi arbitri, io almeno parlo per me stesso, sono una persona molto introversa e che vive una realtà molto provinciale, direi, ma nel senso buono del termine, quindi tutte queste attenzioni mi hanno fatto piacere, però anche un po' non me l'aspettavo, mi ha fatto piacere quando siamo al centro dell'attenzione per cose positive che possono servire anche agli altri, questo ovviamente fa piacere. È vero che siete così permalosi come dice qualche allenatore? Assolutamente no, le assicuro. C'è una partita importantissima, Juventus-Napoli sabato, e gli allenatori dicono che dovrebbe dirigere Rizzoli, secondo lei? C'è il disegnatore Messina che è lì apposta per fare questo e lo fa benissimo, quindi vedrete che andrà il miglior arbitro per quella partita. Grazie.